Ma si, dottoressa! Allora, mi dica, come sta? Dottoressa, io non mi sento per niente bene, dottoressa. Mi sento più debole dell'altro giorno, mi sento. Ma come? Le ho dato il barattolo con le gocce per risolvere proprio il suo problema. Le ha presse? Eh no, dottore, non ho preso le gocce. E perché? Perché i dottoresi non riescono ad aprire il topo del barattolo. C'è tempo. Ma la puoi aprire tu? Ma certo. Ecco qui. Ah, grazie, dottore. Voi mi segui un uesco di me. E mi raccomando. Alleluia, dottore, dottore, dottore. Alleluia, dottore.